Cari concittadini, proseguono le celebrazioni della giornata della memoria. Ricordiamo questa sera una figura di grande profilo militare, Cesare Artoni, legata ad una vicenda che proprio qualche mese addietro abbiamo voluto rammentare con una epigrafe posta in quel sito che lo vide proprio convergere lui insieme ai suoi commilitoni. La famiglia Artoni è qui stasera con noi per fare un dono al museo della piazzaforte dei cimeli che appartennero al padre Cesare Artoni e al nonno Ciro Artoni, due figure che sono legate all'esperienza militare della nostra città. Di Cesare Artoni abbiamo detto stato un grande personaggio, un personaggio legato a vicende militari che hanno fatto la storia e sono rimaste quali pagini indelebili della storia della nostra città. E allora vogliamo esprimere la nostra gratitudine alla famiglia e lo facciamo adesso attraverso le parole del nostro sindaco. Volevo sottolineare come questi festeggiamenti della giornata della memoria che abbiamo fatto in questi due giorni partono dalla condivisione tra la città e questi ricordi e questa memoria che abbiamo fatto con i bambini, con i cittadini nell'inaugurazione della piazza e anche con la riflessione di ieri sera qui a Palazzo di Città. Oggi mi sento di ringraziare la famiglia Artoni per questi doni importanti che fa alla città tutta altro spirito di condivisione e di memoria che non dobbiamo dimenticare. valori, uomini e in questo caso anche cose che hanno un valore simbolico molto più importante di quello che poi è legato alla naturalezza della cosa. Quindi un ringraziamento sentito e di cuore all'intera famiglia Artoni, un ringraziamento al direttore del museo che sono sicuro sarà il custode naturale e che valorizzerà nel miglior modo possibile questi cimeli che oggi riceviamo per custodirli qui nel nostro museo. Bene, la parola adesso intanto alla signora Lucia Artoni. È con lei che abbiamo iniziato questo rapporto di recupero della memoria del proprio genitore. Professoressa Artoni. Non posso fare altro che ringraziare ancora una volta il signor Carabino che ha iniziato insieme a me parecchi mesi fa questa iniziativa. Io l'avevo in animo da tempo, poi ho trovato in lui la persona adatta e lui ha subito affiancato questa mia idea, anzi se ne è fatto promotore e l'ha portata avanti. Già parecchi mesi fa abbiamo iniziato. Oggi voglio ringraziare non solo lui, ma il nostro sindaco che nonostante non sia stato presente in quei mesi in cui abbiamo iniziato, ha continuato con entusiasmo e con molta naturalezza come suo costume, questa iniziativa. L'ha portata avanti e oggi ci troviamo qui per un'altra tappa. Non sappiamo se in seguito avremo ancora altre cose da offrire. In ogni caso offriamo il nostro amore per questo Paese. Grazie, grazie. Professore Artoni, anche lei vuole aggiungere qualcosa? Io mi trovo qui oggi sorpreso perché c'è veramente un'iniziativa interessante, importante che speravo da tempo. C'è stato il silenzio negli anni passati su dei fatti che io ritenevo importanti ma riguardavano la mia famiglia e quindi pensavo forse agli altri non interessano. Invece vedo con piacere che il Paese si interessa alla propria storia e alla propria memoria. Questo mi dà un grande senso di piacere. Spero che la cosa possa continuare in modo produttivo e mi auguro che ci sia un futuro in questo senso. Grazie. Grazie, grazie professore. Bene, consegniamo idealmente questi cimeli al direttore. I cimeli già sono esposti. A lui le conclusioni. Grazie, signor Sindaco, signor Assessore, familiari del nostro caro Cesare e di Ciro, più anziano di lui, anagraficamente. Il Museo della Piazzaforte, l'avete sentito un attimo, è già nella materiale proprietà di questi beni che sono stati ceduti con grande amore e con grande accortezza dalla famiglia, ad un ente culturale pubblico. Io non perdo mai occasione per ricordarlo. Il Museo della Piazzaforte, che tante volte viene collegato immediatamente alla mia persona, solo perché ne sono il direttore di tanti anni, è un ente pubblico di cultura pubblica, è del Comune di Augusta, vuol dire che è di tutti i cittadini di Augusta, è l'ente della nostra città e quindi non poteva essere luogo assolutamente migliore, più anche garantito sotto la forma della prosecuzione delle iniziative nel tempo, che il Museo, quale sede, per conservare questi cibeli che appartengono militari, che appartengono alla famiglia Artoni. Ma un'altra considerazione, la voglio fare proprio, sul personaggio del nostro affettuosamente Cesare, che io, ragazzino, ho avuto a questo punto, dico da vecchietto, l'onore di avere conosciuto e di avere anche scambiato qualche parola con lui, già grande, già anziano. Guardate, ha ragione il figlio Pocanzi, quando ci diceva fino a qualche anno fa, vogliamo dire fino a una decina di anni fa, più o meno, parlare di questo episodio suscitava, è vero, ammirazione, suscitava, è vero, attenzione, di natura storica, essenzialmente scientifica, ma non si andava oltre a quello e probabilmente, chissà, magari considerazioni riguardose di tipo politico limitavano la problematica. Bene, da oggi in poi, anche con l'opportunità di avere questi cimeli esposti, commentati, spiegati, ricordiamo ancora una volta che Cesare Artoni era un ufficiale del nostro reggio esercito, dell'esercito italiano, che faceva parte con i suoi compagni in quell'azione degli Arditi, che era una specialità che c'era già nel nostro esercito fin dalla Prima Guerra Mondiale, che poi sarebbe rimasta anche cambiando il nome nel nostro esercito attuale. Quindi era un'azione fatta da soldati che avevano la divisa italiana addosso, il tricolore nel cuore, il senso del dovere. E pensate, un'azione fatta quando tutto era perduto, quando non c'era più speranza di nulla, quando Augusta oramai era stata sommersa dalle forze britanniche, ovviamente, che avevano condotto le operazioni di invasione, questa operazione assolutamente pericolosissima, oltre le linee, condotta fino in fondo, che ha avuto successo, dove nessuno dei partecipanti ha avuto nemmeno un graffio, e che vogliamo dirlo, per quel modo romantico di fare la guerra tipica degli italiani, che era nostra, degli arditi, forse anche dei sommergibilisti, non ci furono morti tra gli inglesi, cioè fu fatto un grande danno logistico al nemico, ma fu fatta un'azione di guerra, contro le cose della guerra, non contro gli uomini. In tutti questi valori mi sembra di cogliere un messaggio che dal fatto di guerra, che oramai ha 80 anni e lontano, può volare fino ad oggi ed essere strumento anche per le nuove generazioni, per la scuola, per il museo che ha aperto a tutti, per quello che vengono a vedere, al di là del fatto di guerra, al di là del fatto di guerra, che può interessare gli storici, gli specialisti, l'esempio di una persona che ha fatto il suo dovere, che l'ha fatto bene, che l'ha fatto nella sua terra, che ha pensato ai suoi uomini, che li ha riportati in salvo, e che ha potuto assistere alla fine di una guerra perduta, con l'onore e la dignità di chi ha servito la patria. Quindi guardate quante cose, in questi cimeli che oggi voi ci state donando, e che un ente pubblico, quale il comune, non può che trattenere con la massima attenzione, mettendolo a disposizione dei cittadini di Augusto, e di tutti quelli che verranno a vedere queste cose. Grazie ancora. Grazie.